Il presidente della regione Francesco Pigliaro e il vicepresidente Raffaele Paci hanno ricevuto a Villa Devoto i vertici di ZTE, grande multinazionale cinese, quinto produttore in Europa e settimo al mondo di smartphone, oltre che di prodotti di telecomunicazione. Per ZTE erano presenti il presidente Europa e Italia Hu Kun e altri importanti dirigenti dell'azienda. Con Pigliaro e Paci hanno preso parte all'incontro il rettore dell'Università di Cagliari, Maria del Zompo, il delegato del rettore per l'ICT Gianni Feno, i presidenti di Confindustria Sardegna Alberto Scano e della Camera di Commercio di Cagliari, Maurizio De Pascale. La Sardegna, ha detto Pigliaro, si propone come laboratorio di ricerca e innovazione forte delle sue consolidate competenze nel settore ICT, che le hanno permesso di conquistare il primo posto in Italia per numero di start-up innovative e il secondo per attrazione di capitali privati con le joint venture. Siamo convinti che la Sardegna offra agli imprenditori nel campo dell'alta tecnologia a tutte le condizioni favorevoli per investire grandi competenze e forte propensione nei settori dell'alta tecnologia, ha commentato il rettore del Zompo. L'Ateneo di Cagliari accoglie con entusiasmo questa nuova opportunità di collaborazione anche perché da sempre si caratterizza come un Ateneo multidisciplinare, in grado dunque di offrire la propria esperienza sia nel settore di ricerca ICT sia negli altri campi che dovessero interessare i nuovi partner. D'altra parte l'Università di Cagliari ha già solidi e pregressi rapporti con le istituzioni cinesi.